Un'auto è stata divorata dalle fiamme giovedì sera in via Malpighi ad Arezzo. È successa attorno alle 21 a lanciare l'allarme a alcuni residenti spaventati dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Arezzo che hanno domato l'incendio. L'automobile si trovava parcheggiata in una traversa di via Malpighi in una strada laterale senza uscita. Nell'incendio è stata lambita anche una seconda auto parcheggiata di fronte alla vettura in fiamme. Al momento non si esclude l'origine dolosa. Sull'episodio sta indagando la polizia per stabilire le cause esatte del rogo e nel caso in cui venisse confermata l'origine dolosa dell'incendio risalire all'autore.